La tua città in Grecia 93 News Si è conclusa con la vittoria dell'Aquila Azzurra Prima Donna Collection di Trani contro il Matera Il match di domenica 4 gennaio al Palazzetto dello Sport con il risultato di 3 set a 1 Il Palazzo di Trani gremito di gente ha dato sostegno alla squadra casalinga con cori e coreografie molto coinvolgenti Ha fatto il resto Ascoltiamo ai microfoni di Radio Canale 93 L'allenatore Toni Chieppa, il presidente Sebastiero Chieppa è minannese nell'Aquila Azzurra al momento della vittoria Un risultato più che vincente Si sicuramente, il primo set ha giocato molto nervoso Poi piano piano la squadra si è sciolta e ha dimostrato il suo valore contro una grande squadra di fronte annientata dal nostro gioco Un risultato che comunque non ha solamente convinto ma ha anche dato la possibilità a tutto il pubblico di avere veramente la voglia di vedere giocare Si sicuramente, penso che i presenti stasera, veramente tanti, è data molto che non si vede il palazzetto così pieno Si siamo divertiti, le ragazze veramente sono anche aiutate, trascinate e usci fuori dal momento di impasse iniziale Anche grazie all'autore pubblico Il prossimo appuntamento? Con Battipaglia andiamo fuori, poi verrà il Monte Scaglioso tra due settimane Speriamo di avere la palestra ancora piena e di divertire ancora chi viene a vederci Possiamo dire un buon inizio? Ma sicuramente, siamo ancora nella fase finale del giugno di andata Mancano ancora una partita più tutti i giorni di ritorno È un campionato molto difficile, lungo Però adesso partiamo veramente con un po' più di serenità E dobbiamo cercare di esprimere con tranquillità il nostro gioco Presidente, solamente una sua dichiarazione nel momento in cui si conclude questo grande match Siamo contentissimi di questo risultato Abbiamo rivissuto i tempi di Trani Matera della Serie A È una squadra anche molto forte in Matera Ma stasera siamo stati noi più forti Insomma tutto siamo stati più convinti del risultato Tutto qui Allora la convinzione del risultato Il pubblico che comunque aiutava moltissimo La squadra c'era Un binomio che va veramente bene Devo dire che abbiamo dei tifosi grandissimi Il gruppo dei sostenitori è stato eccezionale Sia per coreografia che per incitamento Non si sono fermati un attimo Se abbiamo perso il primo set perché abbiamo fatto 13 errori noi Soprattutto per eccesso di tensione Comunque siamo una squadra forte Certamente puntiamo a fare un grande campionato A chi dobbiamo dare questa vittoria? Questa la dediciamo a tutti gli sportivi soprattutto A quelli veri Grazie Grazie a te Nina Posso avere la tua dichiarazione alla fine di questo match? Sono felicissima Non ho quasi più la voce perché ho gridato da morire È stata una bella partita Intensa Penso che anche l'altra squadra abbia giocato benissimo E faccio i complimenti Però forse noi ci abbiamo messo quel pizzico in più di cuore E di voglia di restare su Adesso con la classifica siete campioni d'inverno? Sì, siamo campioni d'inverno e spero Insomma, non lo diciamo però Di restarci per molto tempo Il prossimo appuntamento è a Battipaglia Sì, sabato a Battipaglia Tutte le partite sono problematiche Perché insomma anche questa squadra ha iniziato male il Battipaglia Il campionato Però adesso sta iniziando a carburare A vincere anche con squadre un po' di alta classifica Quindi mai sottovalutare nessuno Un saluto agli ascoltatori di Canale 93 da Milannese Ciao a tutti Un grande bacio Spero di vedervi più numerosi al palazzetto Grazie La tua città in diretta 93 News La tua città in diretta 93 News Si è conclusa con la vittoria dell'Aquila Azzurra Prima Donna Collection di Trani Contro il Matera Il match di domenica 4 gennaio Al palazzetto dello sport Con il risultato di 3 set a 1 Il palazzi di Trani Cremito di gente Ha dato sostegno alla squadra casalinga Con cori e coreografie molto coinvolgenti Ha fatto il resto Ascoltiamo ai microfoni di Radio Canale 93 L'allenatore Toni Chieppa Il presidente Sebastiero Chieppa E Milannese Nell'Aquila Azzurra Al momento della vittoria Un risultato più che avvincente Sì sicuramente Il primo set è giocato molto su nervoso Poi piano piano la squadra si è sciolta Ha dimostrato il suo valore Contro una grande squadra di fronte Annientata dal nostro gioco Un risultato che comunque non ha solamente convinto Ma ha anche dato la possibilità a tutto il pubblico Di avere veramente la voglia di vedere giocare Sì sicuramente Penso che i presenti stasera Veramente tanti È data molto che non si vede il palazzetto così pieno Si siamo divertiti Le ragazze veramente sono anche aiutate Trascinateci fuori dal momento di impasse iniziale Anche grazie aiutori pubblici Il prossimo appuntamento? Con il battipaglia andiamo fuori Poi verrà il Montescaglioso Tra due settimane Speriamo di avere la palestra ancora piena E di divertire ancora chi viene a vederci Possiamo dire un buon inizio? Ma sicuramente Siamo ancora nella fase finale Del giugno di andata Mancano ancora una partita Più tutti i giorni di ritorno È un campionato molto difficile Lungo Però adesso partiamo veramente Con un po' più di serenità E dobbiamo cercare di esprimere Con tranquillità il nostro gioco Presidente Solamente una sua dichiarazione È il momento in cui si conclude questo grande match Siamo contentissimi di questo risultato Abbiamo rivissuto i tempi di Trani Matera della Serie A È una squadra anche molto forte Matera Ma stasera siamo stati noi più forti Insomma tutto siamo stati più convinti del risultato Tutto qui Allora la convinzione del risultato Il pubblico che comunque aiutava moltissimo La squadra c'era Un binomio che va veramente bene Devo dire che abbiamo dei tifosi grandissimi Il gruppo dei sostenitori è stato eccezionale Sia per coreografia che per incitamento Non si sono fermati un attimo Se abbiamo perso il primo set Perché abbiamo fatto 13 gol noi Soprattutto per eccesso di tensione Comunque siamo una squadra forte Certamente puntiamo a fare un grande campionato A chi dobbiamo dare questa vittoria? Questa la dediciamo a tutti gli sportivi soprattutto A quelli veri Grazie Grazie a te Nina Posso avere la tua dichiarazione alla fine di questo match? Sono felicissima Non ho quasi più la voce Perché ho gridato da morire È stata una bella partita Intensa Penso che anche l'altra squadra Abbia giocato benissimo E faccio i complimenti Però forse noi ci abbiamo messo Quel pizzico in più di cuore E di voglia di restare su Adesso con la classifica Siete campioni d'inverno Sì, siamo campioni d'inverno E spero Insomma, non lo diciamo Però Di restarci per molto tempo Ma sono appuntamenti a Battipaglia Sì, sabato a Battipaglia Tutte le partite sono Problematiche Perché insomma Anche questa squadra Ha iniziato male il Battipaglia Il campionato Però adesso Sta iniziando a carburare A vincere anche con squadre Un po' di alta classifica Quindi mai sottovalutare nessuno Un saluto agli ascoltatori Di Canale 93 Da Milannese Ciao a tutti Un grande bacio E spero di vedervi Il più numeroso al palazzetto Grazie La tua città in diretta 93 News La tua